Buonasera, oggi sono in vena di leggende, per questo ne narrerò alcune riguardanti il Bloody Mary, per i più ignoranti cocktail a base di succo di pomodoro. Si narra alla metà del 1500 che la regina d'Inghilterra dell'epoca, Maria Tudor I, fece scorrere fiumi di sangue per ristabilire il cantolicesimo all'interno del proprio legno, da lì Maria la sanguinaria. Altra leggenda fu quella di Mary, la ragazza sepolta viva per sbaglio. Ella lanciò una maledizione secondo la quale chiunque avesse pronunciato tre volte il nome Bloody Mary davanti allo specchio, sarebbe stato colpito da una strega assassina. Per gli americani questo cocktail è visto come cura digenerativa all'hangover, il punto è che a voi anche questo non basterebbe, perché il vostro stato confusionario non deriva alla sentire.